I carabinieri della compagnia di Randazzo hanno arrestato in flagranza per resistenza a pubblico ufficiale un 23enne di Francavilla di Sicilia, già noto alle forze dell'ordine. Al riguardo gli operanti, in seguito a una chiamata pervenuta in serata al 112, in cui una donna aveva segnalato la presenza di un giovane intento a forzare il portone della loro abitazione nel centro cittadino di Castiglione di Sicilia, si sono prontamente recati sul posto, dove hanno rintracciato il 23enne in forte stato di agitazione causata dall'assunzione di alcolici. Quest'ultimo, alla vista dei militari, li ha aggrediti con calce e pugni, venendo comunque bloccato dopo una breve colluttazione. Al termine delle fasi dell'arresto, i carabinieri hanno quindi proceduto a ricostruire l'intera vicenda, accertando come l'appartamento preso di mira sia attualmente abitato da madre e figlia, quest'ultima fidanzata da qualche anno con il ragazzo che si era presentato sotto casa per parlare con lei. Al rifiuto della giovane a incontrarlo, a causa dello stato di ebrezza in cui versava, il 23enne aveva quindi cercato di forzare l'ingresso dell'abitazione. Solo il tempestivo intervento dei militari aveva pertanto impedito che il ragazzo potesse accedere all'edificio ed entrare in contatto con la donna. Il soggetto è stato quindi posto a disposizione dell'autorità giudiziaria che ha convalidato l'arresto e inflitto la pena dell'obbligo di dimora nel comune di residenza.